Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato durante le serate dei weekend nel contesto dell'intensificazione estiva tra Macerata e Civitanova Marche. Sabato scorso la stradale ha ritirato ben 53 patenti con oltre 600 punti decurtati. Cinque le pattuglie impegnate su disposizione del questore Pignataro che hanno fermato 266 vetture e controllato i documenti a 281 persone. Delle 53 patenti ritirate 49 erano per effetto di alcol 41 uomini e 8 donne dai 18 ai 40 anni. Alle 6 di mattino anche un nuovo caso di auto che non si è fermata all'Alt e dunque dopo l'individuazione grazie alle telecamere è scattata la denuncia per resistenza pubblico ufficiale. In provincia di Macerata dall'inizio dell'anno ad oggi salgono a oltre 250 le patenti ritirate su un totale regionale di circa 600. Noi dobbiamo evitare che alla guida ci si metta in condizioni non idonee perché questo mette a repentaglio la sicurezza di chi è conducente dell'autovettura ma soprattutto la sicurezza di chi frequenta le nostre strade e le nostre città. Alla sicurezza di tutti e quella della Polizia di Stato e tutte le forze di Polizia hanno grande interesse. La conferenza stampa che ha visto anche la presenza del medico della Polizia Fabio Frascarelli impegnato nei controlli antidroga è stata indetta per passare un messaggio positivo. La Polizia con queste operazioni non solo reprime ma previene. Vogliamo far comprendere come certamente il ritiro della patente è un momento delicatissimo per chi lo subisce ma sicuramente le morti a causa di persone che guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto di bevande alcoliche, queste morti, omicidi stradali, pedoni travolti, ciclisti, altri conducenti o involti inducono a fare questa riflessione. Sicuramente tra gli interessi in ballo, nel bilanciamento di questi interessi è chiaro che la vita umana deve essere tutelata per prima.